Guardate questa faccia Alice spiega Allora praticamente Mario non ha mai provato il sushi perché gli fa senso Ok? In tutta la sua vita E' buono il riso ma non mi piace il pesce crudo, ho paura Sì ma tanto insieme fanno il mix Che cosa faremo oggi? Oggi no, obblighiamo ad andare a mangiare il sushi Poi l'avocado devo mangiare L'avocado comunque Ecco quindi noi lo obblighiamo a mangiare il sushi Guardate è disperato Io preferivo andare a mangiare una roba tipo la pizza La tagliata di carne No raga mi prendo Invece si mangia il pollo con la salsa teriyaki E' buono Raga vedrete per la prima volta Per la prima volta mangiano il sushi ragazzi Perché il bello che prima ha detto No ma al massimo se andiamo però non prendo il sushi prendo altre cose Però dillo che non ha capito niente Siamo arrivati Siamo arrivati Mario Smuka Smuka Mario Sembri un Un gangster Un goblin Un goblin Ragazzi sento l'odore fino qua Puglio morire Puglio morire Ditemi se sono normale Io ho freddo ma non ho voglia di chiudermi la cerniera Perché sono un pezzo di cane Non ho voglia Cioè proprio di fare il movimento La faccia di un uomo disperato La faccia di un uomo disperato Ragazzi ma se prendessi solo il riso Se prendessi solo gli spaghetti di soia No Lui vuole fare un olio kinit e prendere solo gli spaghetti di soia Non si può fare senza Cioè se loro fanno olio kinit devo farlo per forza anch'io Vabbè mi prendo gli spaghetti di soia Ah comunque Mario Non so se hai capito Ma non puoi chiedere le forchette Cioè in realtà puoi ma Per questo video fa parte della challenge Si mangia con le bacchette Essaggelo Dai essaggelo Dai assaggelo Mario Mi puoi dire che cos'è Raga un like per Mario Assaggelo Tu assaggia senza fare domande Un po' piccante Aspetta un pollo Qui grazie Dai Aspetta va per fare le cose Penso Che buono dai Eh parla però Guardatelo Non ti piace Dai un attimo Stanno aspettando Si ho capito Ma quando lo senti il gusto Dopo tu domani Ti piace Ti piace? Intanto lì c'è Non ci sta cagando perché Quando lei mangia il sushi Buon raga sono pieno Sei già pieno? Stavo facendo un po' di difficoltà Cioè noi abbiamo finito 45 piatti E lui è ancora il primo Alice oggi cosa facciamo? Una ripresa come sempre Non è che c'è alternativa A questa cosa La coppia che scoppia Se il video ti è piaciuto Lascia un commento E iscriviti al canale Video giornale La coppia che scoppia Sono come noi La vita di coppia Vissuta dall'erario La coppia che scoppia È un'esplosione Circa d'alice Dentro il nostro cuore Ciao 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 Ciao